...con noi come accade fortunatamente tutte le sere dagli studi di Montecito, vogliamo cercare di fare una piccola analisi. Sono molti i propri elementi che stanno, diciamo, venendo traslati con queste idee, no Federica? Sì, o quantomeno che stanno subendo, diciamo, lo sviluppamento di qualche giorno. Oggi ricordiamo che deve essere il giorno del voto sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro della cultura mondica. ...invece questa mozione è stata rinviata proprio in mezzo al fine del...